C'è la seconda semifinale in programma oggi, c'è la Virtus Lanciano contro la Pescara Calcio, arbitra d'incontro Matteo d'Ottavio, nostro tesserato, adesso faranno l'ingresso in campo, il saluto al pubblico e la seconda semifinale, questa mattina si è giocata l'altra semifinale dell'altro girone, Lanciano 1920 Lanciano Calcio contro la Virtus Lanciano, è passata in finale la Virtus Lanciano. C'è il sorteggio, si salutano, sono due tempi da 15 minuti, pubblico delle grandi occasioni per questa seconda giornata del quarto Memorial di Calcio Giovanile, Massimo Scarinci, città di Cassia e Prentana. Ok, a posto.